Ciao ragazzi, buona domenica e ben ritrovati sul canale di Pippo Quarto. Finalmente una Silvia si è fatta viva, anche se sto aspettando con impazienza che arrivi l'altra, che sarà pure bella abbronzata. In questo video Silvietta ci fa sapere che ha trovato un nuovo passatempo, un altro aggeggino. La prima volta che ho conosciuto Smuskina. Insomma ha deciso di farla finita con gli uomini perché sono state troppe le delusioni. Tutti i giovanotti che ha incontrato hanno deluso le sue aspettative, non rivelandosi all'altezza della situazione e sotto ogni punto di vista, e sottolineiamo sotto. E qui ci spiega come mai abbia deciso di rimpiazzare gli uomini con un semplice oggetto. Io prendo questo e questo mi dura vita. Anche se comunque va detto che i ragazzi che Silvietta ha conosciuto erano inesperti, come poi lei stessa ha confermato a Marina, obiettivamente sono troppo pochi, specie per una femminona come Silvietta. Non è complicato usare quell'oggetto, nel senso che non ci sono particolari controindicazioni, però la dolce Silvia ci tiene solo a sottolineare che lo fai la sera o lo fai la mattina, quindi due volte al giorno, ma chiaramente dipende dalle necessità. In studio però c'è anche la stupenda Marina Graziani, che invece resta più sul tradizionale, anche se ammette che da quelle parti preferisce essere «liscia». Marina ci ha confessato che ha avuto pochi amori ma molti uomini, e nemmeno lei è stata particolarmente fortunata, anche nella sua recente esperienza, quando conobbe un ragazzo più giovane di lei, e che da quelle parti era «sottilissimo» e nella sua migliore performance era durato la bellezza di 40 secondi, insomma un vero maratoneta. Durante la trasmissione, Marina non si è limitata a raccontare come avesse conosciuto quei ragazzi, ma è scesa anche parecchio nei particolari, e certe rivelazioni ci hanno lasciato davvero senza parole. Poiché Silvia incalzava e non poco, Marina ha deciso di sbottonarsi svelandole alcune delle bizzarre caratteristiche che avevano gli inquilini di quei giovanotti, e precisamente erano rapide a scorrimento, a spot, Marina si apre del tutto e ci confessa di averlo fatto anche in negozio, e addirittura nei carrelli, e Silvietta è assolutamente d'accordo, ed ammette che noi donne siamo così, poi esatto, e poi lo fai dappertutto, solo che bisogna fare attenzione, soprattutto se decidi di farlo all'aperto, e anche le due furbacchione lo sanno, visto che in passato si sono beccate una bella multa, però si tratta di cose che si sono sempre fatte come ammette la stessa Silvia. I tempi nostri era così. Ovviamente le persone presenti in studio hanno ascoltato tutte le loro esperienze, delusioni, bizzarrie, cose talmente intime che mai si sarebbero aspettati le avrebbero rivelate, e quando gli hanno chiesto se rifarebbero quelle scelte. Specie con quegli uomini messi non proprio bene hanno risposto così. No! Non so perché, ma è la risposta che mi sarei assolutamente aspettato di sentire. Ragazzuoli belli anche questo video le si finì. Spero vi sia piaciuto. Grazie mille della visione e arrivederci al prossimo appuntamento.